Quel giorno la terra tremerà e i fiumi cambieranno il loro corso, vi sarà oscurità a mezzogiorno e un fuoco nei cieli di notte, sarà il giorno del ritorno del dio celeste e quel giorno si scoprirà chi è destinato a sopravvivere e chi a perire, quello che avverrà sarà determinato da quello che è accaduto, quello che era destino si ripeterà come in un ciclo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.